La provincia di Chieti è tra le più colpite dal Covid, soprattutto a causa della contagiosità e della virulenza della variante inglese, ma è anche la zona che sconta un maggiore ritardo sulla campagna vaccinale. Siamo un po' in ritardo per la mancanza dei vaccini, perché comunque abbiamo dovuto interrompere la vaccinazione degli over 80 per una settimana, per circa dieci giorni interi per vaccinare i docenti e quindi farli tornare in sicurezza nelle scuole dopo Pasqua, quando si riapriranno, almeno io spero vivamente che si riapriranno dopo Pasqua, e lunedì riprenderà la vaccinazione per gli over 80. La regione aveva deciso di privilegiare nella fornitura dei vaccini le zone con una maggiore incidenza del virus, quindi le province di Pescara e Chieti, ma qui le dosi non sono ancora sufficienti. Il ritardo a cosa è dovuto alla fornitura dei vaccini? Sì, è dovuta al ritardo della fornitura dei vaccini, per la quale fornitura la presidenza della regione si è, come io so di certo, battuta strenuamente e purtroppo ci sono logiche che veramente sfuggono ai più e non si riesce molte volte ad ottenere quei risultati che si vorrebbero. Nell'ultima settimana Chieti 180 ai contagi da Covid, oltre la soglia d'allarme in base alla popolazione di 125 casi. Finora sono stati circa 5.200 gli ultraottantenni vaccinati nel capoluogo teatino, a fronte di 20.000 persone di quella fascia d'età. Per velocizzare la campagna, il sindaco intende allestire un nuovo punto vaccinale. All'ospedale ex Santissima Annunziata, all'ospedale vecchio come noi di Chieti lo chiamiamo oramai da tempo, si aprirà un secondo punto vaccinale vicino al centro già esistente e già operante. per cui dovremmo sicuramente procedere più speditamente.